Bella per voi ragazzi la serie senza tempo Diego per questo nuovo monologo fresco fresco croccante pieno di cose gustose intanto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale sì perché oggi c'è stata la prima conferenza stampa del nuovo insomma vabbè già presentato qualche settimana fa allenatore della Lazio Marco Baroni presentato dal patron dal gestore Claudio Tito con un bello sproloquio di 10 minuti e che poi chiude l'intervento di Baroni stesso con un'altra mezz'ora alla fine parla più lui dell'allenatore un Baroni che secondo me anche a causa di questo gelo di questo imbarazzo creato dai primi 10 minuti dello Tito io l'ho visto un po' teso ragazzi un po' emozionato e che ci sta però insomma non l'ho visto molto a suo agio davanti alle telecamere a rispondere alle domande ripeto non so se perché si era creata una situazione particolare con l'intervento dello Tito però insomma non diciamo non l'atlettica non sembra essere il suo caratteristica principale insomma quella su cui eccelle e il discorso qual è che sono deluso ragazzi cioè sono deluso ma neanche in realtà perché forse era proprio questo che mi aspettavo un allenatore che è stato preso a detta di tutti noi tifosi insomma quello che era nell'area quello che che usciva dalla decisione di prendere lui come allenatore è che lo Tito abbia scelto un allenatore che non non gli rubi la scena e non sia così insomma abile davanti alle telecamere che non non gli vada contro e così è stato come è anche ovvio ci mancherebbe chiaro come è naturale che un allenatore alla prima intervista non vada contro già la società ci mancherebbe sarebbe sarebbe da pazzi sarebbe reale pensarlo che uno potesse fare così però l'ho visto anche con le idee poco chiare nel senso non da un punto di vista tecnico o tattico da qualche spunto si è visto che comunque ragazzi il Baroni sa di calcio nonostante si voglia farlo passare come un allenatore sfigato un allenatore che ha avuto il record di sconfitte consecutive quando stava al Benevento però è un allenatore che è stato vero elogiato da tutti negli ultimi anni che è cresciuto che ha fatto la sua cavetta e che sicuramente è un conoscitore di calcio e il discorso è proprio che non sa neanche dove è capitato forse nel senso alle domande sui singoli lui rispondeva sempre ogni volta che ha una domanda su un calciatore o su un altro sul mercato lui diceva non voglio parlare dei singoli quello che mi interessa è la squadra e dobbiamo pensare appunto come collettivo chi gioca ecco molto forte su questo su questo punto gioca chi merita e dobbiamo lavorare tanto e le cose diciamo originalissime chi come come lo stesso la stessa intensità la stessa mentalità dobbiamo avere durante gli allenamenti che durante e durante la partita e viceversa e vuole vedere i giocatori che danno tutto sul campo che danno tutti il loro 100% comunque messaggio che ci può stare ripeto niente di originale però ecco si è un po' uncartato il povero Baroni e alle domande un po' più diciamo ficcanti ecco ancora una piccola parentesi su Radio 6 ragazzi che secondo me adesso si sta prendendo un po' troppe critiche gratuite una radio che deve parlare 24 ore che poi non so 24 quanto saranno 16 12 ore di Lazio oh ma che deve dire che deve dire non può sempre ridere i stessi concetti e purtroppo lo fanno quello che voglio dire è che alcuni giornalisti secondo me sono validi e tra questi a parte Ballini che però non va di solito alle conferenze stampa il buon Lapenna e Elmar Bergonzini anche insomma mi sono piaciuti quelli che inventi sono stati hanno fatto le domande che dovevano fare Bergonzini chiedendogli insomma di disarri e di confronto con la situazione che c'era nello spoglietoio prima che arrivasse e la penna con insomma parlaci del tuo staff visto che nessuno di voi ha mai fatto le coppe europee come avete in testa di preparare insomma di fare di organizzare la preparazione atletica per quanto riguarda questi impegni infrasettimanali anche non è una domanda scontata insomma è una domanda che va a mettere sul piatto il fatto che l'allenatore preso viene in una squadra che vuole fare bella figura in Europa e che è abituata almeno quasi annualmente a entrare a entrare in Europa e quindi non mi sono dispiaciuti i loro interventi più di qualcuno mi è mi è piaciuto anche Justulin mi è piaciuto qualcun altro insomma domande come ovvio che sia cosa pensi del derby domande di circostanza fatto sta che ragazzi non non mi ha entusiasmato ma non voglio neanche mettere una croce insomma voglio neanche sparare sulla croce rossa come si dice perché è un allenatore che ha bisogno di lavorare come tutti gli allenatori e per quanto mi riguarda e credo per quanto riguarda anche tanti laziali il problema non è non è assolutamente lui è ovvio che dal punto di vista di cuore di istinto quando c'è il momento di dare una scossa all'ambiente dopo due dimissioni consecutive degli allenatori uno si aspetta un qualche nome che faccia un po' ringalluzzire l'ambiente e Barone non è proprio il nome adatto però sono sicuro che lui ce la metterà tutta e che possa fare bene ovviamente la domanda che ha chiesto qualche giocatore all'allenatore perché l'altro l'altro anni si lamentavano che al presidente scusate perché gli altri anni gli allenatori si lamentavano che la società non assecondasse le proprie richieste lui ha dissato ovviamente si è divincolato si è preso i complimenti dei Casperini e dei Sarri e speriamo possa fare altrettanto bene e anche meglio ovviamente però insomma il fulco della questione ragazzi è l'odito è l'odito che si prende la scena in modo negativo come sempre anche se ci aveva provato allora partiamo dall'inizio questi dieci minuti di presentazione lui attacca già leggermente i giornalisti e dice che è stato certo l'allenatore perché la squadra l'anno prima poteva anche arrivare in Champions però ha perso punti dal punto di vista dei fatti non gli si può dire niente ha perso punti con squadre meno attrezzate della Lazio stessa quindi il problema non era la rosa ma c'era sicuramente un altro problema un problema di spogliatoio che Sarri non è riuscito a gestire e quindi insomma si deve si deve vedere la problematica non nei singoli giocatori ma un certo equilibrio rotto una certa atmosfera che sarà creata poi all'interno dello spogliatoio e lo fa ovviamente con parole e con diciamo toni simpaticissimi quelli che gli si addicono parla di giocatori all'inizio ovviamente parla di Greenwood senza nominarlo c'è un nome di un cacciatore che sta uscendo adesso insomma sulla bocca di tutti e la Lazio l'aveva preso l'anno scorso però poi purtroppo per 20 minuti perché sapete c'è il fuso orario tra Italia e Inghilterra e quindi non siamo riusciti a chiuderlo per una questione di orario del fuso orario che il mercato in Inghilterra ha chiuso prima per 20 minuti non siamo riusciti a chiudere ma lo dici pure lo dici pure lo dici pure lo dici pure e poi dice anche tra l'altro voi non sapete niente se parlate di questo ma non c'è solo Greenwood sono altri giocatori che io non lo dico perché se lo dico voi impazzite non dico che c'è un altro nome che è altro che Greenwood meglio di Greenwood io non so ma Mbappé so che ha firmato Real però ho letto pure che per il momento resta in Francia cioè resta sì resta in Francia e non e in Germania a seguire la nazionale magari ce li ripensa lo dito sta attento non lo fa ma poi arriva e ti rompe l'equilibrio dentro lo spogliatoio non sarei così sicuro di prenderlo oppure non lo so Messi ritorna in Europa Kroos non smette fa un altro due anni con noi chi viene chi viene Modric non lo so Fremo chi è un giocatore che la Lazio può prendere che è un nome più allettante a livello tecnico di Greenwood non lo so non lo so ma ci stupirà ci stupirà il gestore e che riprende il discorso dopo la la conferenza di Baroni appunto cioè Patania un giornalista bello mi ha fatto molto dire perché proprio gli dava del tu ma non del tu del te proprio no perché te dici così te fai così io credo che è un po' la risposta al fatto che lui lo dito stesso dia sempre del tu ai giornalisti guardandoli un po' dall'alto al basso e il buon Patania subito gli ha ha cominciato lui dandogli del te chiedendogli del fatto dei soldi spesi no perché lo dito ha detto eh la Lazio ha speso 40 milioni e dice non ha speso 40 milioni ha speso di 30 e lì lo dito fa un discorso che ci può stare nel senso ragazzi state voi parlate dite numeri a caso la la storia di 40 milioni spesi dalla Lazio quell'affermazione lui l'ha fatta dopo di che aveva letto che l'ha ha speso la Lazio 10 milioni in più della Juve che ha preso Turam che ha preso Turam e lui dice a parte che la Juve ne ha preso uno del giocatore ma la Juve l'ha preso da fuori e voi forse non lo sapete ma quando il giocatore da fuori non paghi l'IVA questo l'ho imparato anch'io per altre dinamiche non per quanto riguarda il calcio un acquisto fatto da un paese all'altro non si paga l'imposta sul valore aggiunto dello Stato quindi c'è un risparmio su quello per quello tante squadre vanno una delle problematiche storiche del calcio soprattutto con l'italiano è che stavano a comprare troppi stanieri perché perché a parità di valore risparmia il 20% che è quello dell'IVA e quindi lui nel discorso dei 40 mili dice non ho spesi 30 non ho spesi 40 perché l'IVA e perché la commissione e perché e se incarta un po' Patania mi dispiace perché era partito bene poi se incarta non gli va più troppo contro si incarta troppo su sta storia dei soldi spesi e poi lì parte un'invettiva dello Tito contro i giornalisti che è clamorosa voi non sapete niente parlate dite cose false voi non sapete sapete a formello che ho fatto io che ora mi fanno una chiesa mi fanno questo mi fanno quello e il giornalista gli dice si ma se voi non dite niente dice voi non sapete niente voi non c'ete niente a formello non ci fate entrare è tutto chiuso Giuseppe Tanto a formello è blindato è perché poi voi entrate e dite cose che non so vere non lo so interviene anche Abate interviene anche Cardone tornando sempre a a Radio 6 e Cardone diciamo questa volta fa un intervento giusto secondo me gli dice ma si può dire che la Lazio ha sbagliato qualcosa anzi questo dice prima Patania quindi voi non avete sbagliato niente sbagliano sempre l'arte la colpa è dell'allenatore che non ha saputo gestire la rosa la colpa è dei giocatori che non hanno voluto mantenere i patti e perché lo dito dice io mi sono reso conto che qualche giocatore rosicava che non giocava quando invece avrebbe meritato invece sono stati fatti giocatori che invece non meritavano perché Sarri si era fatto un po' condizionato a sta cosa del valore a prescindere non su quello che davano i giocatori in allenamento in campo e quindi per questo si è creata sta cosa che quelli giocatori che si credevano meritevoli non giocavano e rosicavano e c'è stato un po' questo conflitto con quelli che invece diciamo i senatori o quelli che invece dovevano giocare a prescindere tant'è che Sarri si è dimesso ma niente a che vedere con me infatti il nostro rapporto è di liaco bla 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 stessa cosa Tudor arriva e dice questo è un discorso interessante che fila in realtà il problema è che non è quello poi il problema vero e proprio arriva Tudor che meno male che gli dà una svegliata ai giocatori dice Claudione e famo qualche punto però anche lui si rende conto della situazione e dice tizio Caglias e Impronio via non è possibile questo perché siamo una squadra una società che non può fare tante cose insomma cose troppo grandi a livello finanziario a livello economico e quindi complice quello complice anche uno striscione che dice lui non fa giustizia a chi l'ha suggerito famoso striscione allenatore da valutare come uomo uomo di cioccolata e qui ritorna un po' lui cosa vuole dire non fa giustizia a chi l'ha suggerito vi ricordate c'era qualcuno che diceva che erano i giocatori senatori che avevano fatto si avevano insomma spinto qualche tifoso a fare questo striscione lasci fuori i nomi dei cataldi no dei immobile chissà non lo so e e quindi lui si è dimesso per lui però adesso cambiamo tutto adesso gioca chi merita si devono prendere giocatori dei forza e dei corsa perché il calcio è cambiato quindi a me diciamo intendo in mezzo luiso alberto più o meno velatamente dice a me se è un giocatore che porta la palla bene però poi se vedete i co che abbiamo preso tanti di quei co che abbiamo preso so giocatori che non rientrano a core e dice io ho un coro perché io so tizio caio e invece no tu devi core quindi abbiamo preso giocatori del genere si si provvederemo a prendere anche altri con più qualità e insomma diciamo che il suo discorso fila ragazzi dal punto di vista dialettico non fa una piega e e alla domanda di Patania ma quindi voi non avete sbagliato niente è sempre colpa dell'altro io dice che sì in realtà no io ho sbagliato l'anno scorso o gli anni prima a non mandarli via certi giocatori a cercare di mantenere giocatori che rappresentavano un po' più insomma quelli un po' più amati cercano di trattenerli però questo è un errore soprattutto nel carcere moderno perché cita di Natale mi fa piacere anche cita di Natale non ci stanno più giocatori tipo di Natale che nonostante offerte lui voleva era convinto rimane utile rimane utile tutta la carriera e adesso non è più così quindi è inutile sta cercando di far per forza le bandiere quando poi in realtà se non dimostrano sul campo quello che quello che dicono di valere e ripeto non farà piega ammette anche le colpe su questo punto il problema è che è sempre quello regà cioè non c'è sta non c'è sta qualcuno nella società che riesca a mediare queste situazioni manca manca qualcuno nel nell'organigramma della Lazio che faccia da mediatore che sia tra lui e l'allenatore e i giocatori e che faccia le veci sia la faccia della società con lo staff davanti allo staff perché lui può far 700 cose e qui il discorso sulla comunicazione che Cardone gli dice ma anche magari sulla comunicazione non è meglio far qualcosa ma sì è bravo certo che dobbiamo fare infatti cambierà tutto due nuove radio lo studio televisivo studi non c'è nessuno in Italia in Europa non c'è nessuno questi studi vedrete vedrete non so che cosa sta cucinando cadolo dito questa comunicazione secondo me sta sbagliando nel senso il discorso della comunicazione non è fatta in altra radio come Lazio Style che crea questo mondo vattato intorno a te tra te e il pubblico la comunicazione che intendeva Cardone che intendiamo tutti noi è quella tra te e il pubblico e il tifoso il modo che tu vai di porti davanti al tifoso riguardo a certe situazioni e oggi l'ha rimarcato e oggi ha ritoppato tutto un'altra volta quando gli parla delle proteste della contestazione dice non so problemi miei ma come non so problemi e lì è rusicato perché nessuno gli ha detto come non so problemi suoi sono i tifosi della sua squadra della squadra di cui lei è presidente e rappresentante nessuno gli ha risposto lì e è rusicato è vero che è complicato perché lui parla sempre sopra e ci sono delle tempistiche però porco Giuda a me non mi interessa tanto poi quelli mettono le candeline fanno le messe a morte a me sono contento ma mi allungano solo la vita e dice che tutto questo tutta la contestazione parte dalle informazioni sbagliate che danno i giornalisti quindi punta il dito contro i giornalisti fai tu parla apri di più apri questo mondo Lazio sii chiaro e sii più sincero rispetto alle tue responsabilità e meno meno egoista meno egoistico basta parlare sempre di te hai rimesso mezzo alla storia che ha salvato la Lazio non voglio dire quello che è successo vent'anni fa la Lazio aveva 550 milioni di debito sempre la stessa storia i miracoli si fanno una volta sola dice che questa cosa è vera che se io sono un presidente che la cui la cui squadra sta aumentando valore anno dopo anno anche se piano piano a livello immobiliare bla 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 ci stanno questi quelli sono dati non si discutono e invece guardate un po' le altre squadre ci stanno i presidenti le proprietà che cambiano ogni anno ogni due tre anni e perché arrivano e fanno dove uno stravolge e vendono sogni e invece poi dopo qualche anno non ce la fanno e sono costretti a vendere altri fondi che poi dopo rivendono e poi insomma è verissimo parlando di Milan e Inter su tutti di altre squadre però perché non invece non accenni non citi esempi migliori esempi virtuosi Napoli e Atalanta su tutti di squadre che sono partite da meno di te o da come te e sono riuscite però ad arrivare a qualcosa di 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 concreto con tutto un lavoro sulla comunicazione soprattutto che quello che fa l'Atalanta sul territorio bergamasco ragazzi è impressionante a livello di 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 marketing il Napoli non c'è manco bisogno perché a Napoli a parte qualche juventino qualche milanista o interista che sono la sparuta minoranza altro che noi non c'è manco bisogno di fare marketing a Napoli sul Napoli però il Napoli ha lavorato bene con le plusvalenze l'Atalanta anche e soprattutto portano avanti un progetto che può striccolare un anno ma poi l'anno dopo si riprova a fare a fare qualcosa di grande e niente quindi il discorso è sempre lo stesso ragazzi io sono d'accordo che ci sono difficoltà economiche e per andare ad aggredire il mercato è ovvio però ci sono strategie intelligenti che si possono intraprendere e noi continuiamo a non farlo dicendo che tanto no noi fiamo quello che dobbiamo fare questo è il massimo non è il massimo è il massimo se tu vai te a fare tutto quello è il massimo che può fare te credo te devi andare oggi conferenza stampa poi è andato a parlare del Flaminio speriamo bene appuntamento con Gualtieri poi dopo di chiedere da andare al Senato e poi dovrà andare a fare a riparlare questa talent room in cui si visionano tutti i giocatori in tutto il mondo tutti i giocatori in tutto il mondo si visionano e poi vengono presentati all'allenatore si fa la scelta e lui va a fare offerta Mo Greenwood pare che dice Fabrizio Romano che Marsiglia gli Ezerbi ha offerto 25 milioni quindi abbia scavalcato diciamo la Lazio e a un passo l'accordo però invece dall'Inghilterra dicono la Lazio non è assolutamente fuori dai giochi è solo un altro diciamo un sorpasso momentaneo del del Marsiglia ma io a suo punto basta molliamo Greenwood e vediamo qual è l'altro nome quel nome meglio di Greenwood su cui li sta lavorando in sordina tra l'altro poi Immobile Albesictas voci forti dalla Turchia insomma accordo fatto prenderà più di quanto prende qui intorno ai 5 milioni i turchi dicono che è tutto fatto i turchi spesso sono attendibili molto più spesso sono poco attendibili cioè se una notizia è vera loro sono i primi a darla però molte volte non è vera non so cosa aspettarmi sarebbe bello perché può andare a Fenerbahce vuole vedere Immobile di Renato da Murigno non lo so questa cosa è stata un po' una botta così oggi non me l'aspettavo non so non so se è vero però se i discorsi fatti fino adesso sono quelli di cercare di eliminare quelli che sono stati accusati di fare nepotismo non anzi nonismo praticamente dentro lo spogliatoio di creare quest'ambiente marcia all'interno dello spogliatoio se Immobile è uno di quelli a me mi dispiace tanto è un colpo al cuore e dovremmo andare via chissà dunque questo è un video breve che faccio giusto così e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e stasera saremo in live da Stramacci e company da Just Lazio su Twitch quindi seguiteci dalle 10 saremo in diretta un po' io un po' mi fratello poi io torno a lavorare e faccio la notte e vi saluto e buonanotte ai sognatori forza Lazio